ciao ragazzi ecco il video con cui vi indicheremo come configurare old manager 2 stalle bet sale bet fa parte del circuito ai poker è una rumo partner del di grinder lab con la quale potrete avere breakback flat veniamo al dunque la prima cosa è scaricare il client una volta installato andiamo a selezionare tutte le varie opzioni del programma di stalle bet partiamo da una configurazione che ho già settato e la reimposterò in italiano così da vedere insieme tutti i passaggi diciamo per settare al meglio il client di poker in ottica futura visto che faremo anche un video sui poker tools io lo setterò in modo tale che sarà compatibile perfettamente con i poker tools se clicchiamo su settings quindi mettiamo in italiano così da vedere insieme le opzioni partiamo dall'ultima di default avremo attivato automaticamente queste caselle io vi consiglio assolutamente di impostare si attiva sempre automaticamente nei tavoli cash che nei tornei questo perché in questo modo il time bank partirà anche dal pre flop e non quando avremo le diciamo le chips nel piatto seconda opzione tornei apri automaticamente la lobby del torneo va bene lasciamo perdere la seconda casella audio di default potrebbe essere disabilitata l'abilitiamo e il volume sicuramente sarà messo basso io lo trovo sempre così quando lo installo per la prima volta lo portiamo al massimo che non è fastidioso inoltre di default sarà con le prime tre caselle noi andremo a flaggare l'altra quarta casella per avere un suono un bip quando sarà il nostro turno al tavolo andiamo ora alla sezione multi table sicuramente sarà non sarà selezionata questa opzione io ve la consiglio per poter ricordare affinché il software ricordi la posizione del tavolo sul vostro desktop in futuro faremo anche un video su placement su come configurare il software per avere magari il programma che gestisce più room insieme e la posizione dei tavoli insieme priorità automatica io lascerei così le prime due caselle flaggate e l'ultima imposta priorità sulla montare la puntata lasciare così per quanto riguarda la chat devono essere tutte spuntate sempre per la compatibilità con i poker tools per quanto riguarda la sezione table sicuramente va cliccata la funzione auto per non vedere far vedere le carte all'avversario e configurare sia l'autore buy che magari i pulsanti di puntata anche se questi poi potrebbero essere ancora migliorati con i poker tools l'autore buy come si imposta semplicemente si attiva la casella di sinistra non quella di destra che è relativa al fixed limit da quella di sinistra e poi si inserisce il pallino a massimo al tavolo in modo da avere lo stack di default massimo e di fare re buy con la terza opzione qui in basso o meno del cento per cento così saremo sempre a concentro b blind facciamolo ok per quanto riguarda le size per il post flop potete mettere queste percentuali che si usano un terzo flop al turn half river un 70 e qui il pre flop potete scegliere voi cosa mettere se aprire due e mezzo due eccetera eccetera qui tre il bottone avrete tre opzioni diamolo ok per quanto riguarda animazioni vanno assolutamente tolte le spunte sull'animazione gameplay e le altre animazioni per alleggerire il client di ai poker che è un molto pesante quindi avremo più un tavolo un po più pulito come visualizzazione per il tema allora vi ripeto qualora non usate ai poker tools potete usare quello che più vi aggrada in questa sezione invece se usate poker tools anche per l'ottica futura appunto del video che faremo io vi consiglio di impostare in questa maniera mazza quattro colori il dorso del mazzo deve essere o questo rosso o questo poi usare questo tipo di mazzo e il tema del tavolo deve essere il primo default andiamo avanti avatar io di default sono selezionate queste caselle io metto che non voglio vedere avatar quindi non flaggiamo questa opzione in generale quindi una volta che abbiamo inserito tutte le varie sezioni abbiamo configurate potete mettere sicuramente salvare localmente l'end history ma questo sarà di default nascondere il saldo se non volete far vedere il vostro bankroll oppure comunque vi dà fastidio in sessione e infine io cambio tutto in inglese ok questa è la configurazione del client in questa maniera avremo la configurazione migliore quando un ultimo suggerimento per la visualizzazione dei tavoli io preferisco non questa che è quella di default ma questa visualizzazione e con i filtri potreste ordinarli dal più grande al più piccolo come vedete diciamo è molto più comodo visualizzare i tavoli così andiamo alla configurazione di old manager 2 allora questa è una configurazione abbastanza pulita il consiglio che vi do e quando installate di non non dare in automatico le room perché altrimenti vi importerà tantissime mani quindi selezioniamo le mani noi le room noi manualmente in questo caso i poker io l'avevo già selezionata la tolgo e lo rifacciamo quindi una volta aperto il programma di old manager 2 quello che dovete fare è andare in site setup e selezionare i poker che è il circuito su cui si appoggia sta le bet quindi cliccare in auto import folders nel simbolo della della più una volta fatto questo andiamo a dare la vera e propria directory dove il client di poker va a conservare le nostre mani quindi diamo qui diamo in c disco locale c andiamo in poker che sono che poi questo è il percorso di tutte le room di poker stalle bet poker data troveremo infine il nostro username history una volta arrivato in history diamo l'ok e questo è il percorso per quanto riguarda le mani per la seconda opzione vi do un consiglio allora questa è utile se volete archiviare le mani in formato originale questo può essere utile soprattutto se in futuro doveste perdere il database allora potete importarle tramite la cartella che sceglierete di dare ovvero archiviare l'end history dopo averle importate in di default c slash hm2 archive però io vi do un consiglio se proprio volete archiviarle utilizzate questa opzione ovvero selezionate la cartella di un cloud tipo drop box google drive in questa maniera noi andremo ad archiviare le mani nel cloud e in futuro potremmo direttamente reimportarle attraverso il lo spazio web e quindi in caso di rottura del disco formattazione cose varie avremo sempre le nostre mani originali diamo l'ok e abbiamo selezionato perfettamente il percorso un'altra cosa che si può fare velocemente che io già ho fatto si va in settings e andare a impostare la rake back come si fa si clicca in rake back e bonus si clicca sulla più si va a mettere una descrizione di che cosa è esempio rake back 38 per cento flat si seleziona la nostra username e infine si si inserisce la percentuale che abbiamo sul circuito questa maniera avremo già la rake back impostata nella sezione report per fare questo bisogna però andare a configurare in session quindi andate in reports cash sessions andiamo a configurare stats voi di base avrete non il vinto in euro ma in dollaro lo toglierete come si fa a togliere una diciamo una voce si clicca due volte su quella voce ad esempio così l'ho tolta se vogliamo rimetterla dobbiamo ricercarla e rinserirla in questo caso vediamo se ci dà la eccola qua e si clicca due volte l'abbiamo rinserita però questa è la flop aggressive la rimandiamo di là vediamo quella generica se la troviamo dovrebbe essere questa qui sì esatto l'abbiamo ritrovata quindi voi che cosa fate togliete quello in dollari cliccate in euro e andrete ad aggiungere queste voci qua euro rake euro rake back euro vincita in euro più la rake back e il net one in euro una volta fatto questo date l'ok e vi troverete il net one in euro la rake la rake back e la vincita totale inclusa di rake back o la perdita attenuata dalla rake back andiamo a fare una prova e vediamo se l'add funziona seguendoci a un tavolo 6 max qui spiegheremo l'ultimo passaggio che è fondamentale ovvero come fissare in maniera definitiva le statistiche questo perché spesso mi scrivete che avete problemi nel nell'impostazione delle statistiche le sistemate e poi il giorno dopo andate a giocare le avete tutte a caso allora la prima volta che andiamo ad usare l'add apriremo un solo tavolo e aspetteremo di giocare una mano per poi configurare tutte le statistiche di tutti quelli che sono al tavolo quindi aspettate di giocare una mano con almeno tutti e cinque quelli del 6 max una volta fatto questo andremo a sistemare le statistiche con il tasto destro cioè il tasto destro è il non il sinistro il destro ci permette di spostare l'add e le statistiche una volta fissate vi farò vedere come dare l'ok dobbiamo giocare almeno una mano nel frattempo un'altra cosa che vi consiglio è nell'uso dell'add questo è il pannello di default di old manager 2 qui vi spiego subito brevemente cosa c'è qui potete scegliere il vostro add di default io lascerò quello di quello base il vostro personalizzato avrà un nome diverso magari lo imposterete cliccandoci e metterete yes nella sezione nell'ingranaggio quando cliccate nell'ingranaggio potete fare diverse cose vedere la mano che appena il replay della mano che appena avete giocato l'hand viewer ovvero la possibilità di vedere la mano giocata in formato testuale infine il table finder che serve in determinati room dove non si aggancia l'add e lo dovete fare manualmente il caddy report serve per il anche le carte replay istantaneo dovete fare dovete usare questa opzione qui ora giochiamo una mano e vi faccio vedere che l'add partirà automaticamente perché abbiamo impostato il percorso correttamente folderemo subito ok appariranno le statistiche eccole qui allora facciamo un'ipotesi vogliamo usare come default l'add nostro che è il personalizzato che si chiama turn lo selezioniamo e gli diciamo si usa per tutti questo tipo di tavoli come vedete abbiamo le statistiche un po sballate come si spostano con il tasto destro si seleziona e poi si si tiene premuto il tasto destro del mouse e le spostiamo quindi andremo a mettere questa statistica sotto e andrei sotto ciascuna username o nickname scusate questa qui va qui ovviamente ognuno se le mette come meglio grada fumo lo metteremo qua il pannello di h&m io lo metto qua al posto della chat questo sono io e manca mingo che deve giocare almeno una mano quindi aspettate che giochi una mano per avere la sua una cosa che vi consiglio è di togliere il nostro ad perché ci toglie spazio perché comunque non ha senso visualizzare come stiamo giocando lo vedremo in post sessione come si fa si va in ad settings in general si seleziona l'add su cui si vuole togliere il nostro ad general settings si flagga questa opzione id row add e si fa apply andiamo a vedere non c'è ancora aspettate vediamo che cosa abbiamo sbagliato quindi ad settings si seleziona scusate il nostro ad appunto che è tarn e andiamo a flaggare questa opzione molto importante selezionare l'add su cui appunto nascondono vedete abbiamo liberato un posto ci manca sta ancora giocando la mano quindi ci manca la statistica di mingo 13 una volta che abbiamo sistemato le statistiche andrà spinto un bottone nell'ingranaggio cliccando sull'ingranaggio della rotella andrà spinto il bottone set sit ovvero impostami il posto preferito praticamente vediamo se finiscono questa mano perfetto sicuramente andiamo a spostare un po più di qua la statistica in modo che quando poi si riempiranno le varie caselle sarà più largo e quindi non andrà a coprire le mani una volta come vedete abbiamo sistemato tutte le statistiche andiamo a fare quello che abbiamo detto ovvero clicchiamo sull'ingranaggio impostiamo il set sit lui ci dice il 3 facciamo sì in questa maniera le statistiche non si sposteranno più se doveste rari casi avere problemi potete usare la modalità indipendente è un'opzione la preferire mode in genere funziona una volta che avete fatto questi passaggi ora vi faccio vedere che le statistiche saranno perfettamente al loro posto chiudendo e riaprendo il tavolo andiamo ad aprire un altro tavolo ad esempio questo 3 su 6 ci mettiamo qui e aspettiamo subito una mano così saremo subito dai bui ah io ho messo l'opzione di aspettare i bui quindi la togliamo per giocare subito una mano così non vi annoiate ovviamente meno profittevole non lo fate eccoci qui vedrete che partirà il tarn come ad di default ovvero quello che io gli ho impostato e le statistiche si andranno a mettere esattamente qui qui e qui come le avevamo messe passiamo la mano eccole qua come vedete il pannello si è messo al posto giusto abbiamo tutte le statistiche al posto giusto david mi sembra che non l'avevamo impostato quando succede è un'ipotesi perché ripeto è una cosa spesso fastidiosa ripetete questa operazione ovvero una volta che qualche statistica si sposta voi ripetete sempre questa cosa di set sit ora l'ho messa qua giù faremo un'ulteriore prova per sicurezza riapro un altro tavolo vediamo questo ci sediamo qua aspettiamo che parte anche qui l'add una volta che abbiamo verificato che sia tutto ok posso dirvi che un'ultima cosa per migliorare l'aldemanager 2 una cosa che dovete fare è un'operazione che va fatta almeno una volta al mese si tratta di ottimizzare le tabelle e il vostro database è molto semplice farlo si tratta di andare nella sezione database management e usare l'opzione vacuum full questo ottimizzerà il vostro database e l'aldemanager 2 avrà un accesso più veloce alle statistiche dei player non si impallerà e sarà assolutamente più leggero il software lo renderemo perché comunque più giocheremo umani più il database si ingrandirà e sarà complesso questa operazione eliminerà gli errori delle tabelle e i vari reindirizzamenti aspettiamo di giocare anche una mano al tavolo 2 comunque come potete vedere anche questa statistica si è messa al posto giusto quindi ci dovremmo essere anzi assolutamente ci siamo ah già che ci siamo vi faccio vedere come configurare il replay istantaneo si clicca qui nell'ingranaggio e si clicca show mocked card position e qui andate a vedere ad esempio questo dovrebbe essere il flop e spostate le carte dove dovrebbero stare in questa maniera configurate il replay istantaneo e non dovete andare a perder tempo a vedervi il replay invece della room anche qui è partito perfettamente l'add tavolo 2 come vedete abbiamo impostato correttamente sia l'add sia all the manager 2 sia le statistiche sono state fissate per togliere una volta che avete configurato anche il replay possiamo ok dobbiamo togliere questa opzione ok ragazzi ora posso chiudere i tavoli e far vedere infine quest'ultima ottimizzazione da fare siamo nella sezione di nella parte di la prima sezione perdonatemi home si clicca su database andremo qui ci sono i vari database che voi potete creare questo è un database io ne ho uno solo come ho detto l'ho appena creato si va in maintenance e poi cliccate su full vacuum questo e poi sul bottone ottimizza questo renderà il vostro database più performante con questo ci siamo detti tutto e ci vediamo ai prossimi video ciao ragazzi ciao